La Lega sono io perché prima dell'euro Germania e Italia avevano lo stesso tasso di disoccupazione. Adesso, dopo 12 anni di euro, la Germania è sempre più ricca e noi siamo sempre più poveri. L'Unione Europea è una macchina che fabbrica povertà, che ha distrutto il continente più ricco del mondo. Solo fuori dall'euro possiamo ricominciare a sperare. Domenica 25 maggio decidi tu. Vota Lega Nord. Grazie.